Economia anche sulla prima pagina del manifesto per una notizia preoccupante, quella delle vittime del lavoro che sono in aumento più di mille morti l'anno, ricorda il quotidiano il manifesto. 11 morti in più all'anno, più 1,1%. Il bilancio complessivo del 2017 è di 1029 persone che hanno perso la vita sul lavoro. Dati inail allarmanti e un altro incidente avvenuto ieri a Milano, per fortuna non mortale, un incendio in un'industria chimica, ma sei operai sono finiti all'ospedale per averne respirato i fumi. E sempre a Milano, lutto per la morte la settimana scorsa di quattro lavoratori in un altro incidente. Per fortuna questa volta le conseguenze sono meno gravi. Silvia Zerilli. Sì, infatti, buongiorno. I operai presentavano lievi sintomi di intossicazione, hanno dai 19 ai 57 anni, sono stati trasportati in ospedali per accertamenti, ma le loro condizioni non sono gravi. Si hanno inalato del fumo. Secondo la prima ricostruzione di vigili del fuoco e carabinieri, c'è stato un principio d'incendio causato dalla reazione di alcuni prodotti chimici usati nell'azienda di Settimo Milanese, che produce turboemulsori. Dalle prime analisi, inoltre, non sarebbero state rilevate sostanze tossiche nell'aria. Questo incidente sul lavoro a distanza di pochi giorni, da quello tragico alla Lammina di Milano, dove sono morti quattro operai. Dopo la perizia, la procura di Milano ha disposto il dissequestro dell'azienda, tranne la parte coinvolta dall'incidente. Proseguono gli accertamenti tecnici, ma i dipendenti della fabbrica milanese ieri sono tornati al lavoro. Emerge intanto che a intossicare gli operai sarebbe stato l'Argon e non l'Azoto, resta però da capire perché l'allarme non abbia funzionato. E come ricordavi, oggi il funerale di Giuseppe Sezzo, uno degli operai morti negli incidenti alla Lammina, sarà lutto cittadino a Milano, le bandiere a mezz'aste, alle sequie sarà presente il civico gonfalone. È tutto.